Oggi a NostiV parleremo di Porto Guaro sotto le stelle, del concorso fotografico Veneto-Orientale Un Racconto presente e sarà nostro ospite Carlo Alberto Menon. Questo e molto altro a NostiV. NostiV L'8, il 15 e il 22 luglio, tutti i commercianti del Centro Storico di Porto Guaro otterranno le proprie attività aperte fino alle ore 23, con vetrine illuminate e decorate e banchetti posti al di fuori dei negozi a ravvivare il centro. Durante queste serate, ai bar del Centro Storico inoltre sarà consentito organizzare momenti musicali soft all'interno dei plateatici. Andrea Padovese di ConfCommercio spiega Ci auguriamo che questo possa essere il primo di una serie di eventi che permetteranno di dare nuova vitalità al Centro Storico di Porto Guaro. Ci auguriamo che i portograresi si riappropriano del Centro Storico, rispettando ovviamente le disposizioni anti-Covid e che si riavvicinano alle attività del posto che certamente non stanno attraversando un periodo tra i migliori. Si tratta di un primo passo sulla strada verso la normalità, aggiunge il presidente di ConfCommercio Porto Guaro, Francesco Fratto. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri concittadini è che si può vivere serenamente la propria città, tornando a consumare nei pubblici esercizi e a fare acquisti nei negozi anche in questa fase post-emergenza Covid, ovviamente rispettando gli accorgimenti previsti che possono garantire la salute di tutti. Parliamo ora di viabilità perché i comuni di Fossalta e Noventa di Piave stanno valutando la possibilità di acquistare il ponte di barche che unisce le due località affacciate sul fiume Piave. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Lo hanno annunciato pubblicamente i sindaci di Noventa e Fossalta di Piave. L'obiettivo è arrivare all'acquisto del ponte di barche sul Piave per renderlo pubblico. Il ponte di barche che unisce le due sponde del fiume e le località di Fossalta e Noventa di Piave è uno degli ultimi ponti con pedaggio in tutto il Veneto. È gestito da una società privata che lo costruì nel 1951 e che nel corso degli anni è investito sulla manutenzione e sistemato la zona di accesso visto che il carico di traffico è particolarmente elevato. Ogni giorno diversi lavoratori pendolari lo utilizzano e quando l'autostrada A4 si blocca il ponte di barche diventa un'importante valvola di sfogo per la viabilità. Questa sera alle 19.30 il Consiglio Comunale di Fossalta di Piave discuterà anche di questo tema visto che tra i punti all'ordine del giorno c'è la Convenzione per la Gestione Unitaria delle concessioni dei due comuni che si affacciano sul fiume. Prossimamente lo stesso documento arriverà sul tavolo del Consiglio Comunale di Noventa di Piave. La Convenzione riguarda però solamente lo spazio acqueo, non la proprietà del ponte che rimane privata. Ed è proprio questo il nodo che i sindaci Manrico Finotto di Fossalta e Claudio Marian di Noventa sono chiamati a sciogliere prima di poter arrivare ad un ipotetico passaggio gratuito lungo il ponte. Pare comunque che la trattativa per l'acquisto del ponte sia stata avviata ed abbia coinvolto anche Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia. Ci spostiamo a Jesolo e parliamo di Lungomare delle Stelle. Come anticipato nei giorni scorsi, l'edizione 2020 sarà dedicata all'intera categoria degli operatori sanitari come ringraziamento per essere stati in prima linea nella lotta al Covid-19. La data dell'evento, stabilita dall'amministrazione comunale in accordo con fede e consorzi e le associazioni di categoria, sarà il 21 agosto. Giunge alla quarta edizione il concorso fotografico Veneto Orientale Un Racconto Presente con lo scopo di raccontare le specificità del paesaggio del Veneto Orientale per trasferire l'immagine di un territorio costituito di legami affettivi e memorie che si instaurano tra il paesaggio, i suoi elementi e i propri abitanti. Sono quattro le selezioni speciali del concorso, opere d'arte, attività produttive agricole, biodiversità e fauna flora a rischio di estinzione mondo marino e lagunare, in particolare alla loro biodiversità, agli ecosistemi e al tema del riciclo dei rifiuti marini. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. Gli scatti dovranno essere realizzati all'interno dei 16 comuni del Veneto Orientale, ambito del PSL. Maggiori informazioni sul sito www.vegal.net Ci spostiamo a San Donato di Piave, dove torna l'estate con l'edizione 2020 di Hashtag Estiamo, musica, teatro, spettacoli e cinema all'aperto. Il primo evento sarà Homo Riddens di Teatrino delle Nevi e avrà luogo sabato 11 luglio alle ore 21 presso Piazza Indipendenza. La prenotazione del posto è obbligatoria all'indirizzo prenotazioni.eventi, chiocciola a sandonadipiave.net. E' nostro ospite questa sera a NostiV, Carlo Alberto Menon, titorale della Titanium SRL di Roncade. Buonasera Carlo Alberto, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, Carlo Alberto, innanzitutto vuoi spiegare ai nostri telespettatori di cosa si occupa la tua azienda? Beh, Titanium SRL si occupa di realizzare e progettare insieme ai clienti dei componenti per motori da corsa, in particolare inerenti la distribuzione. Quali valvole, guida valvole, piattelli, reggi molla, punterie, tutto quello che fa entrare la miscela in camera di scoppio e uscire dalla stessa camera i gas di scarico, insomma. E con questa crisi legata all'emergenza Covid-19 che c'è stata, voi quanto siete stati chiusi per il lockdown, quando avete potuto riaprire, come è andata? Noi abbiamo dovuto chiudere forzatamente il giorno 23 marzo, dopo il DPCM, in cui mi sembra fosse un sabato sera Conte ci avvertiva che non avremmo più potuto lavorare, e di lì fino al 4 maggio abbiamo dovuto rimanere chiusi. Ti dirò, la situazione di quest'anno era di per sé partita senza enorme esubero, era tranquillo il volume d'affari quest'anno, non notavo una crescita del fatturato, tutt'altro. La situazione del coronavirus decisamente ha comunque posto un freno completo alle entrate, e questo certo non ci voleva. Ecco, adesso comunque che siete entrati a pieno regime, quindi come va nel vostro mercato, che è quello sostanzialmente delle corse, che è un mercato abbastanza fermo, e se c'è qualche altro ambito in cui vi siete allargati per cercare di stare sul mercato? Sì, le corse, come correttamente dici, sono del tutto ferme in questo momento, per cui in tutti i livelli di competizione c'è un fermo totale, e naturalmente la nostra clientela non ha nessuno stimolo ad acquistare materiale da montare sui motori per fare le corse. Questo un po' a tutti i livelli. Quello che più mi preoccupa è che essenzialmente ora non viene nemmeno consumato quel materiale che hanno a magazzino i nostri clienti, non correndo, e quindi presumo che anche a settembre, ottobre, la prossima stagione, non ci sarà più comunque una necessità di approvvigionamento, e quindi la crisi non si limiterà a questo periodo, ma si protrarrà per tutto il 2020 con gran facilità. E cos'altro state facendo voi per stare sul mercato, oltre che a questa componentistica legata ai motori? Beh, diciamo che una cosa che ci salva un po' è che trattiamo anche con i privati e non solo con le grandi case che hanno avuto chiaramente di danni maggiori da questo lockdown. I privati, sai, gli appassionati di motori continuano ad esserci, c'è chi ha motori storici, per cui ci hanno fatto fare componenti per revisionare motori storici, adesso per esempio ho fatto un paio di Lamborghini Formula 1 degli anni 80, che è stato un gran piacere eseguire, però sono cose limitate, appunto sui piccoli numeri. Poi noi, essendoci allargati anche alle lavorazioni in genere sul titanio, riusciamo a produrre altre componenti di mia invenzione spesso, e quelle, essendo, per esempio ho fatto delle parti per sigarette elettroniche recentemente, che hanno avuto un discreto successo, e con quelle colmo un attimino questo crollo che c'è stato nelle competizioni. Però anche lì, onestamente, manca ricchezza, perché la gente tutta è spaventata, tutti hanno un ridotto introito professionale, quindi nessun incentivo a spendere in beni voluttuari, quelli che costruisco io a questo punto. Va bene, Carlo Alberto, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, e ti auguriamo un bocca al lupo per il proseguo del tuo lavoro. Grazie, grazie. Io comunque confido che con un po' di coraggio ce la faremo. Ciao, buonasera. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NostiV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su Il13TV, premendo il tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ricordiamo inoltre che attivo è il nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle nostre notizie. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci. Grazie a tutti.